Il pronto soccorso dell'ospedale del Casentino di Bibbiena è stato inaugurato dopo i lavori di rinnovo cui è stato sottoposto. Si tratta di un intervento da 400 mila euro. L'obiettivo era quello di migliorare la struttura e potenziare i servizi per i pazienti. Nello specifico è stata fatta una ristrutturazione di l'idea impiantistica con nuovi pavimenti e rivestimenti, nuovi impianti idraulici ed elettrici. I locali adesso sono tutti dotati di climatizzazione. Nella sua veste rinnovata il pronto soccorso dispone di una stanza di isolamento polifunzionale, di uno spazio accoglienza per i pazienti pediatrici. Crescono anche i posti di osservazione breve e intensiva. All'investimento di ASL sud-est si sono aggiunte numerose donazioni da parte di associazioni e amministrazioni comunali.